Paolo De Lorenzo, gestore del rifugio Padova, ma cosa vuol dire gestire un rifugio oggi nel 2011? Sì, vuol dire parecchio sacrificio, come sempre credo, anche prima vuol dire parecchio sacrificio perché essendo quassù qualsiasi piccola rottura, qualsiasi piccolo problema, bisogna scendere il paese, cercare la cosa, aggiustarla e questo e quell'altro, però molta soddisfazione, molti amici, aria sana, pulita, c'è la possibilità di poter mantenere la famiglia e questa è la cosa più importante per me. Chi viene al rifugio Padova cosa trova? Ma io credo che la cosa che cerchiamo di far trovare il più possibile è amicizia, serenità, tranquillità. E anche buona cucina? E anche buona cucina perché abbiamo fatto la scuola berghiera e ci stiamo impegnando proprio per questo, quello spero che sia dovuto. Quali sono i percorsi principali che un alpinista o un turista escursionista può fare partendo dal rifugio Padova? Sì, noi siamo il comune di Domegge e siamo a confine con il Friuli, tutte le nostre montagne fanno confine con il Friuli, che è molto bello, è il sentiero anche più alpinistico che abbiamo, è la forcella segnata e il ritorno, il capanile Valmontanaia e il ritorno per la forcella montanaia. Molto molto bello è l'altopiano di Vedorcia con il rifugio Tita Barba o se no dall'altra parte Friuli sempre ma forni di sopra, il rifugio Jaff un po' più facile però molto panoramico. Per chi viene dalla pianura come si fa a raggiungere il rifugio Padova? Sì, diciamo arrivati in Cadore a Pieve si gira per Domegge, Calazzo-Domegge e arrivati al lago, cioè si scende sul lago del centro Cadore che è un posto stupendo e si sale per 7 km in una stalla carrozzabile. Ecco, perché venire in montagna oggi? Un suggerimento? Ma io credo perché con tutti i problemi che ognuno ha, questo o quell'altro, si ha un posto proprio dove dire sta con la spina e mi godo un po' di aria pulita. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.